Oggi vi parlerò della logistica del vino a temperatura controllata. Io sono Gaetano Santoro, branch manager della filiale editore annunziata, dove ci troviamo in questo momento. In cosa consiste la logistica a temperatura controllata del vino? Il servizio di deposito a temperatura controllata è la soluzione ideale per lo stoccaggio di tutte quelle merci che necessitano di determinate condizioni di conservazione. Una corretta conservazione è fondamentale per preservare l'integrità della merce ed evitarne deterioramento. Per ciascun prodotto viene impostata la temperatura più donna al mantenimento delle sue proprietà, garantendo il rispetto della catena del freddo in tutte le sue correzioni, stoccaggio, prelievo e movimentazione. Gli ambienti di deposito a temperatura controllata adottano tutte le procedure di sanificazione e di sicurezza obbligatorie per legge. Tale procedure sono necessarie per proteggere i prodotti da ogni tipo di contaminazione. L'organizzazione del nostro magazzino avviene in modo efficiente, con software dedicati che collegano magazzino e ufficio. La merce che arriva presso il nostro deposito viene riscontrata accuratamente dai nostri operatori, per assicurarsene l'integrità. E poi viene divisa per referenza o addirittura, visto che parliamo di vino, per annata, così da facilitare le attività di evasione e ordini dal pallet fino al singolo collo. Ma come si adatta la logistica del vino di T-Group alle diverse tipologie di prodotto? La logistica deve considerare le specifiche esigenze di conservazione e di trasporto di diversi tipi di vino, come quelli frizzanti rispetto a quelli fermi, richiedendo strategie personalizzate. Inoltre, con la nostra esperienza pruriennale in questo specifico settore, abbiamo sviluppato servizi ad hoc molto apprezzati dai nostri clienti, come un picking puntuale, un servizio di imballaggio adeguato, servizi espressi con orari concordati per i ristoranti, e dove richiesto effettuiamo scarico in cantina come servizio dedicato. 48 piattaforme, 1100 dipendenti, 1100 veicoli in movimento ogni giorno. T-Group, anywhere in any way.